Ciao ragazzi, prima di nuovo sono con Eleonora Ciao Eleonora, che cosa è successo pure questa volta? Ogni volta ne ho una Ho la parte lombare completamente bloccata Non riesco quasi nemmeno a fare la retroversione del bacino E quando l'ha fatto sento dolore Dolore, ok, si è stessa con la lomba Quindi è una dolce dolce Fai vedere il punto esatto Questa zona qua Ok, non può muovere Non può fare la rotazione del bacino Perché si è stessa qui Lo senti più a destra o più a sinistra? Centrale? Centrale Ok, solo nel medio Let's check Quindi prova a misurare adesso da 1 a 10 Quanto è il problema? In una scala tra 0 e 10 Il dolore e limitazione? Limitazione di immobilità è poca perché io riesco a fare il movimento Ma sento dolore quindi non lo faccio Non lo fai, ok Quindi sei Sono bloccata dal dolore Ok, è un livello alto Ma non puoi ridurlo Ok, è bene Piegati un attimino in avanti Torna su Si, si, no, si vede, si vede È chiaro No, puoi tornare Non puoi tornare Non puoi fare la curva Fai la volta, per favore Guarda, è una strada Cioè, non riesco ad andare giù Si, non puoi fare la curva Si, non puoi tornare Brava Perfetto Perfetto Ma non è finita Ok Lascia cadere le gambe Abbandona tutte e due fuori Bravissima Rilassa tutto Rilassa tutto Oh, buono E ti riposi Ci sei? Si Bene Brava Comoda Comoda Si Ruota proprio da questo lato Vieni, vieni, stendi le gambe Si, si, non abbiamo da fare Stendi bene le gambe Brava Lascia fare tutto a me Perfetto Più abbandonata che puoi Benissimo Ferma così Lascia di cadere Più rilassata che puoi Brava Pancia in su E ti riposi Ci siamo quasi Ancora una Bene Ci sei? Si Little painful Yes Fa un pochino male Si Rilassa le gambe Brava Oh Pancia in su E ci riposiamo Perfetto Brava Rilassa Abbandona Brava Ancora una Bravissima Ancora una Brava Ci siamo Altro lato Tutto bene? Cosa hai fatto? Sblocchiamo parte dorsale Che è solo un compenso A tutto quello che hai fatto Ah si? Si perché il problema è lombare Però poi dopo c'è un compenso dorsale Quindi sono tutta storta fino a su Si 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 è tutto No È solo perché C'è un po' 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 Ok. Ops. Ops. I'm going to translate that, I have no idea. Relax, ok. Perfect. That's fine, let me check. Oh, wonderful. That's good. Facciamo subito le cose importanti. Hold on tight to the edge, right here, one here, and one here. Devo tenermi? Uh-huh. Ok, that's fine. Grazie, ho acquistato due gentile. Si, she stole her. Bene, appoggiali sui gomiti che sfruttiamo questa posizione. Bravissima, rilassata, comoda, comoda, lascia cadere la testa e andiamo. Brava, se si abbandona, abbandona. Perfetto. Ok, con calma. Altro là, bravissima. Other side, that's fine. Relax, ok. Perfect. Benissimo. Adesso, let me check. Ok. A little more, relax. Ok. Gira da questo lato con calma. Bravissima, rilassata. Morbida. Bene. Ok, need some help. Let's go. Ok. Permesso. Good. Relax. Allora, andata. Allora. Good, good. Good, good. Grazie, Bea. Grazie. Grazie, Bea. Perfetto. Yes, to unlock the sacrum, the only way is just jumping on it. Bea is lighter than me. Cannot do that. Ok. Perfect. Good. We have to do many different approaches on the hips. because they are strictly linked with the... with the focus. Ok. Lasciati cadere, rilassatissima. Ci sei? Morbida, morbida. Brava. Ferma lì. Perfetto. Brava. Ma mi devo tenere? No, no. Ce la vengo a prezzo a te quando mi ti... Eh, va bene, va bene. Ok. Rilassata. Brava. Ci siamo. Ti ricordi questo? Beh... No, non ho proprio... C'ho quasi paura. Do you remember it? No. No. She forgot it. Ok. Perfect. Solleva la testa. Brava. Giù e ti rilassi. Comoda, comoda, comoda. Più rilassata che puoi. Abbandonatissima. Brava. Abbandona, abbandona. No, vabbè. Ci sei? Mamma mia. More, more than beautiful. Ho il colo più lungo. Eh sì. No, ma questo era bloccatissimo. Sì. L'ho sentito proprio dentro... Dentro l'anima. Into the soul, sì. Ok, vai. Ci sei? Sì. Perfetto. Forza. Adesso invece senti? Adesso mi sento molto più... Aperto. Ok. She felt here the stiffness. And the trapezo was on an upper level, comparing with the shoulders. Yes, like that. Kind of important compression. So elevation here of the trapezo. And now she feels released and she can drop both shoulders. So it's fine. It's fine. Ci sei? Mm-hmm. Bene. Adesso... Che soffro di bruxismo. Mm-hmm. Però ha fatto un trattamento. Non so se l'avevo detto la tua. Sì, sì. Il botox. Sì, sì, sì. Per allentare la pressione del mesticare. Però un po' bruxo comunque. Mm-hmm. Ci sei? Si rilassata. È comodo, comodo. Brava. Abbandona. Ok. Brava. Ok. Brava. Fattibile? Aha. Ok. Apri un pochino la bocca, poco poco, e ti rilassi. Brava. Comodo, comodo. Fa far tutto a me. Aia. Bene. Ci senti? Vai. Sì. Vai. Ancora. Vai. Rilassa tutto. Aia. Ci sei? Ammozzicato. Vai. Rilassa. Abbandona tutto. Fermala. Ok. Benissimo. Sì. E adesso facciamo l'altra parte. Ok. Gira da questo lato. È rilassatissimo. Fa fare tutto a me. Brava. Più rilassata che puoi. Brava. Ok. Non è finita. Altro lato. Brava. Più abbandonata che puoi. Rilassa tutto. Abbandona tutto. Brava. Rilassa tutto. Rilassa, rilassa. Brava. Rilassa, rilassa. Ok. Ci siamo. Tutto bene? Sì. Ok. Ci siamo proprio. Adesso è fatta. Aspettiamo qualche secondo. E poi ci mettiamo seduti e poi in piedi. E lì mi dici se c'è la sensazione di grande alleggerimento. Ma grande. Prova un po'. Allora, prima sensazione. Leggerezza? Sì. Ok. Sì. Ok. And what about range of motion? Riesci a… Vado. Sì, sì. Riesci a muoverti ora? Sì, senza dolore. Ah, riesco pure a scendere senza aver verticalizzare la schiena. Sì. Sì. Meglio? Molto meglio. Prima verticalizzavo subito la schiena. Ok. Adesso riesco a scendere. Sì. Forse dovrei fare solo un po' di stretching così. Però sì. Perfetto. Bene. Grazie. Ci siamo. Fatto. Grande. Ok. Allora, diciamo goodbye to our friends. 281. Bye bye. Grazie per la visione.